Musica Ciao a tutti e benvenuti su Amico PC Quest'oggi vogliamo parlarvi di SharpKeyes Un software gratis e portable Quindi non necessita di installazione E può essere utilizzato su tutte le versioni di Windows Che cos'è SharpKeyes? E' un programma che permette di programmare la vostra tastiera Quindi potete associare ad un tasto una differente operazione Come funziona? Clicchiamo su ADD ed abbiamo due menu Sul menu di sinistra abbiamo tutti i tasti della tastiera come quelli di destra Con la differenza che sulla sinistra abbiamo i tasti da cui vogliamo estrapolare la sua funzione Ad esempio selezioniamo il tasto 5 A destra invece selezioniamo ad esempio il tasto 0 In questo modo premendo il tasto 0 digiteremo il 5 Quindi a sinistra potete selezionare il tasto che magari non vi funziona bene o non funziona del tutto A destra invece il tasto che magari non utilizzate e quindi che volete usare per digitare il comando del tasto non funzionante Quindi una volta che avete preso questa decisione cliccate su ok e ripetete l'operazione per tutti i tasti Dopodiché cliccate su write to registry e applicate le modifiche Riavviando il pc o disconnettendo l'utente In qualsiasi momento potete tornare indietro aprendo il software e cliccando su delete all per cancellare tutto O delete per cancellare la singola operazione Grazie a tutti